In questo video sarò breve. Allora, buon Natale a tutti. L'ho voluto fare vicino al mio albero perché volevo che fosse un po' più natalizio, ma anche la mia paverità è natalizia. Quindi vi auguro un felice Natale. Il mio cappello è più strano, ma non è lo stesso. Vi auguro tutti un felice Natale e niente, so che quest'anno sarà un po' diverso per tutti. Scordate il coro di Tani fuori, ma è inevitabile. Ovviamente sì, sono in pigiama perché se lo stesse chiedendo. E niente, vi auguro un felice Natale. Mi raccomando, mangiate se potete. Mangiate cose buone, tanto poi a gennaio facciamo la dieta tranquilli. Dopo le feste facciamo la dieta. Il mio albero è bellissimo che lampeggia, c'è poi lo suono della mia lavatrice. Sotto fondo meno male perché pensavo ci fosse rotta. E niente, ci vediamo poi dopo le feste. Continuerò a fare il video, non farò la pausa. Perché voglio mostrarvi poi i regalini che ho ricevuto, se vi fa piacere. E niente, passate un buon Natale, delle buone feste. E niente, ci si sente poi tra Natale e Capodanno. Buon Natale a tutti. Sì, questo sarà il mio video più breve di tutta la storia. Mi raccomando, anche se appunto passate un momento difficile e tutto il resto, siete positivi, siate contenti. E anche se non ricevete grandi regali, importanza è sempre il pensiero. Io vi auguro appunto un buon Natale, buone feste. E ci vediamo prossimamente. Mi raccomando, lasciate un like di buon Natale e un commento se vi fa piacere. Ciao.